bella ragazzi siamo in un altro test sempre per la serie laurea aram anche se non ho più la roba addosso per provare l'audio del gioco perché prima non lo stavo registrando e per laggare un po' tutti insieme allegramente ho chiuso tutto il chiudibile ma credo che sia proprio mia mamma la causa del lag invece attenzione potrebbe non essere il mio nome? il nes mi attacca? oh si mi attacca sono un po' averestesi però il mio team fancazzi ok vediamo ora scopriremo se dubbi si... oh 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 e va bene tante ulti che volano... no pensavo di prenderla lasciamo per warwick e per il dark armist no era morto ci ha pensato zero torna oh merda va bene va bene buono non buono uh no flash un po' un po' da panico da usare bella quella ultima bella quella ultima bella l'ultima bella l'ultima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Mi salva di culo E vabbè Altri 2300 di oro Non vogliamo mica finire troppo in fretta Poi non è più divertente Comunque come potete vedere il mio dark harvest al minuto 14 ha fatto 3320 danni Per dirvi quanto è rotta sta maestro di denaro E poi un'altra pallina Bravo Sto già neopi Ah lo sapevo Mi sono comunque fatto ciulare Gianna ti amo Gianna mi manda i cuoricini e noi vinciamo un altro Aram Vediamo speriamo che l'audio sia buono così posso iniziare a registrare cose fighe Ovviamente onoriamo Gianna Gianna carry ed us Danni ne abbiamo fatti la nostra runa ne ha fatti 4300 Bella rega stavolta davvero al prossimo video spero Ci dobbiamo riprovare Ci riproviamo Perché ancora l'audio non andava Finalmente è iniziata Come potete vedere Non è più di Shledinger il gatto Ma la scatola si Ma cos'è sta roba Sto lag Ma mi sa che ci rimane Allora a sto giro l'audio dovrebbe registrarlo Di scatola Di fuori del cazzo di lag Quando mia madre è su facebook Io già perdo Cioè Il blimp ingiocabile C'è fame Perché ho tirato una pallina all'indietro Nessuno lo saprà mai Oh Gli dodge Sti cazzi Amore Ok è morta Spudi per ali Nooo L'ho messa bene Ok Oh Non ci flash Faccio il set Poi mi lancio in mezzo a tutti E muoio Sembra un'ottima soluzione No? Oh Ok Perché tiro le palline A cazzo di cane? A che prima avevo bario Viene? No No La prossima alza Che schifo Che schifo L'inchiato C'è un'ottima soluzione qua No C'ho provato C'è un'ottima soluzione qua C'è un'ottima soluzione qua C'è un'ottima soluzione qua No Stavo pensando di flashare ma Lui ce l'aveva Pensavo che dopo tutto quel fight In un modo o nell'altro L'avessi usato Ma va bene Attenzione Viene Oh Pesa No Devo mettere lo special Un'ottima soluzione qua E' un'ottima soluzione qua No Volevo prendere l'attore Uh L'ho preso E l'ho avuto anche Perché ho messo lo special Su qualcun'altro Miao Mi dispiace Allesta Ok No Non pensavo mi uccidesse Avevo la zonia Avevo flash Non pensavo mi uccidesse Pensavo mi lasciasse con poca vita In modo che Sona continuava A venire Sotto la torre Per dive armi E poi io facevo la zonia Quando zonia mi attaccava E dopo sarebbe morta Sotto la torre Però ho fatto più danni Del previsto E sono morto comunque A proposito Sempre per il tema laureato Uno dei regali Ringrazierei la persona Che me l'ha regalato Ma suonerebbe male Perché si chiama Graziana Quindi grazie Graziana Minicestrico Che palle Non sto facendo niente Sto guarda Attenzione Flash Queen 5 4 3 2 1 Senza flash Una nuova pallina Noo che smincata Che ho fatto Eccola Ok che mi chiama Bello Bello No Ho spostato la zonia Dal 2 Al tasto del mouse Visto l'andazzo Il rabato Mi sembra un buon video Allora vediamo se riusciamo a fare Una combo figa Con la ulti Combo figa Con la ulti Vediamo Pallina Ulti Zon Il piano è quello All me baby All me Look at this Grazie Tim Che carini I'm coming baby I'm coming Con calma Un'ho'n 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 va bene carriati dai tanconi l'abbiamo vinto anche queste speriamo porca miseria speriamo che questa volta l'audio vada bene al prossimo video ciao